E' mercoledì 16 marzo 2016, buongiorno Irpinia, buongiorno ai telespettatori di Prima TV che insieme a noi cominciano questa giornata con la rassegna stampa, dando dunque un'occhiata ai titoli dei principali quotidiani quest'oggi in edicola e aprendo dunque questa finestra quotidiana sul mondo. Cominciamo dal quotidiano del sud, estorsione alla scuola, due fermi, sequestrato e picchiato in un'aula, ha denunciato tutto ai carabinieri, 100 mila euro richiesta di pizzo al proprietario di un istituto privato. A Montoro esplosioni in una casa, feriti due fratelli e uomo morto al Moscati, tre indagati, oggi l'autopsia. Il paziente aveva 55 anni ed era di Cervinara. Il Corriere della Sera, terrore e spari a Bruxelles, nel blitz ucciso un sospettato, uno in fuga con le armi, sotto assedio e due asili. Lotta all'ISIS, indagini sulla strage di Parigi, forze speciali in azione per ore, quattro agenti feriti. e in prima pagina anche la vicenda della candidatura romana per il sindaco romano da parte del centrodestra. Meloni sfida Berlusconi, il centrodestra si spacca. Parte da Roma allo scontro per la successione. Il fatto quotidiano, nomine di finanza e servizi, allarme rosso al Quirinale. Preoccupazioni per il generale, salta la macchia toscana all'ISI. Tensione sull'agenzia della sicurezza interna, su cui punta forte il Premier e su Toschi. In pole per la Guardia di Finanza. Monitorate l'alcol e anche le caselle aeronautiche e della Marina militare. Stop su Carati. Centomila firme in soli quattro giorni. Chiedo scusa all'appello del no alle schiforme, così come la chiama il quotidiano romano. Boom di adesioni al manifesto sul referendum. Il sole 24 ore. Pronto il piano flessibilità alle infrastrutture 4 miliardi. Brennero, Milano-Verone e Milano-Chiasso fra le priorità. Inviati a Bruxelles i progetti della clausola investimenti da 5,1 miliardi, 11 con i fondi europei collegati. In prima pagina verso le 24 ore anche le elezioni in America, le primarie. Stati Uniti, voto decisivo in Florida e Ohio. Obama, campagna volgare e violenta. Mentre Mattarella dice in Libia spero che il governo sia presto operativo. La gazzetta dello sport. Juve vogliamo una notte da Leoni. Anche senza Chiellini, Dibala e Marchisio, Allegri affronta a testa alta il Bayern in Champions. Niente alibi. Si riparte al 2-2 di Torino. Toni, doppio ex, sta con Ribéry. E dunque questa è la notizia che si riferisce ovviamente alla partita della Juventus che è l'ultima rappresentante italiana ricordiamo in Champions League e che ha questa sera un incontro sicuramente non facile con il Bayern dopo il 2-2 dell'andata appunto a Torino. Gli azzurri dopo Conte e Donadoni se la gioca con Capello. Dietro ai due favoriti resta forte la candidatura di Ranieri. Tavecchio al prossimo tecnico andranno meno soldi. Il mattino di Avellino. Roma-Napoli. Il flop delle alleanze. Meloni oggi si candida centrodestra nel caos. Bassolino sfida il PD. Se mi esclude, si suicida. La leader di Fratelli d'Italia e la Lega rompono con Berlusconi. Valente all'ex sindaco incoerente a fare ricorso e non accettare l'esito. Anche il mattino dedica ampia pagina, ampio risalto in prima pagina. Hai la vicenda dei terroristi a Bruxelles. Caccia ai terroristi. La guerra di Bruxelles. Inchiesta sulla strage di Parigi. Ucciso un musulmano. Due in fuga. Sfogliamo proprio il mattino. Napoli. Il Movimento 5 Stelle sceglie Brambilla. Stop alla prof lanciata da Fico. Comunaria sul web. Vince l'outsider in gara contro due donne. PD. Bassolino in calza. Suicidio senza di me. Valente avverte. L'esito dei ricorsi si accetta. Quindi insomma davvero caos. A Roma evapora il centrodestra. Meloni in corsa. Oggi atteso il sì definitivo. leader FD appoggiato da Salvini sfida Berlusconi. Nel lungo travaglio di Giorgia l'implosione della coalizione. L'analisi di Mario Iello che dice tra sgambetti e continui veleni l'annuncio di una maternità è diventata poi un caso politico. Il caso Meloni. Noi leader multitasking grappate a un asilo. Conciliare bimbi e carriera dipende dal welfare e dal papà. Questo insomma è l'analisi del giornale del quotidiano napoletano. Pace a tavola. De Girolamo. Sponsor di Mastella. Benevento. L'ex ministro. Un passo dalla candidatura a sindaco con il sì di Berlusconi. Bruxelles. E caccia all'uomo. Ucciso uno dei due terroristi. Quattro agenti feriti durante il blitz. Un quartiere sotto assedio. Intanto a Berlino esplode un'auto blindata per ore la città. Morto l'uomo alla guida. La polizia pensa a una vendetta della criminalità organizzata. Carneficina di Parigi. Dieci ancora in fuga. Salà è sparito ma i fiancheggiatori sarebbero tutti nascosti nella capitale belga. Un modo di gestire questa vicenda da parte dei belgi politici. Sinceramente abbastanza dilettantesco. Se non fosse che la vicenda è una vicenda sicuramente drammatica ci sarebbe quasi da sorridere. E anche da pensare per l'assenza di un coordinamento a livello europeo su questi argomenti così determinanti. Putin ritira i primi aerei. Manus mobilita. In Siria continueremo la guerra al terrore. Dice il premier russo. Le elezioni statunitensi. Trump e Clinton in marcia verso il successo. Primarie per repubblicani e democratici in stati decisivi come Illinois, Ohio e Florida. Obama dice basta coi toni volgari e divisivi. Mentre su Regeni l'Egitto adesso collabora presso l'incontro tra le polizie. Faccia a faccia al Cairo tra Sadec e Pignatone. Soluzione entro Pasqua. Collaborare ex post ci sembra un'offesa alla memoria di Regeni e soprattutto anche un'offesa agli italiani ancora peggiore della stessa morte del povero ricercatore. Fondi UE. Allarme corte dei conti. Spese irregolari. Rischio frodi nel 2014. Campania e Sicilia. In bilico 700 milioni per il periodo 94-99. Passiamo all'edizione vellinese del mattino. Fuga di gas. Esplosione a Montoro. Feriti madre e figli. Sventrato il piano terra di una palazzina. Sgomberati a scopo precauzionale altri nove appartamenti. Gestione dell'acqua. L'apertura del PD. Emendamento democrata alla Camera. La scelta per il pubblico non è più obbligatoria. Il Nazareno guarda i privati. Colucci programma i confronti a lato con le società, i sindaci e il CGS. In prima pagina anche il basket. La Sidicas fa sognare e guarda al mercato. La società cerca un play o un'ala per i play-off. Questione della politica. Niente strappi, ma la sinistra PD prepara la battaglia. Todisco un'alternativa che resti nel partito. Paris ha più senso confrontarsi con i temi. c'è anche da dire la verità che i grandi partiti nelle loro scelte per le principali città, Roma, Napoli, Milano, chi più chi meno hanno fallito un po' tutti. Ma il PD in questo momento sembra in particolare difficoltà anche perché ha dimostrato con Bassolino e con i gesti di Bassolino che l'esperienza delle primarie questa volta si è dimostrata fallimentare perché non si sono accettati i risultati delle primarie stesse vanificando nel senso. Quindi, insomma, c'è tanto da riflettere, credo, all'interno del gruppo dirigente del PD e intendo per gruppo dirigente quello dei piani alti, quelli del Nazareno. Acqua, gestione pubblica non obbligatoria. Passa l'emendamento PD al disegno di legge del Movimento 5 Stelle. Colucci riapre i confronti al lato. Isochimica, indagini dell'ASL, troppo generiche. La Commissione accusa. I parlamentari, dopo le audizioni, mancano dati specifici sui mesoteliomi. Pochi test effettuati sui bambini. Montoro, scoppio in casa, feriti mamma e due figli. Fuga di gas da una caldaia. Un vigile del fuoco durante i soccorsi si frattura una mano. I testimoni dicono crollava tutto come in un film. Davvero, quindi, momenti di grande paura a Montoro. Essorsione e botte all'Istituto Paritario scattano gli arresti. L'inchiesta e la procura, l'introduzione a Monteforte di Gardieri e Romano. Il titolare chiuso in un'aula ci devi 100.000 euro. A domicella, con il flex alle poste, colpo mancato, troppo rumore. Volevano attendere l'arrivo degli impiegati all'interno del locale. Le questioni del territorio. Funicolare, sui binari, torna il primo vagone. Questo è sicuramente un dato molto, estremamente positivo per Avellino e Provincia, quindi anche per Mercogliano, ovviamente, ma anche per tutta l'Interland di Avellino. Entro venerdì sarà consegnata la seconda carrozza, preziosi. Piano aereo rispettato, resta il nodo. Gestione. Avellino, Rocchetta, tra memoria e futuro. Questa ferrovia è ancora utile all'Irpinia. Ultima fermata di Assanti, proiettata dalla sala della prefettura. Casule, vincolo fermo al Ministero. Morti al Moscati. Ci sono tre indagati. Cardiochirurgo, cardiologo e infermieri in sala. Scattano gli avvisi. Il paziente ascoltò il discorso dei medici, un errore, e lo disse ai parenti. Caso il Moviplex, l'annullamento del permesso di costruire, in quanto non ci sarebbe stata un'opportuna valutazione di impatto ambientale. Sì, di gas, si cerca un altro rinforzo per i playoff. Siamo al basket. La dirigenza pescherà nel mercato americano un playmaker o un ala. Intanto, dopo la gara di Brindisi, lancio di pietre contro il pullman avellinese, con la squadra che è tornata solo alle 5. Flavio Tranquillo promuove la Scandone. Può giocarsela davvero con tutti. Il tecronista Sky è sicuro. Rispetto al 2008 ci sono più chance di arrivare fino in fondo. E speriamo così. Per il calcio, i grandi assenti. Biraschi e Bastienni nazionale. Tesser costretto a nuovi cambi. D'Angelo ha recuperato l'infortunio. Oggi l'amichevole con la Berretti al Partenio. La giornata intanto degli ex. Bittante guadagna spazio. Izzo si procura un rigore. L'esterno e l'Emboli decisivano la rete del Parigi Toscano. Il centrale del Geno è in ottima forma. Quindi, insomma, quelli che i ragazzi che ha lanciato l'Avellino in questi anni. Marchesi. L'Avellino deve crederci. I playoff sono ancora possibili. Rino Marchesi, allenato l'Avellino nei primi due campionati di Serie A, la salvezza rimane la priorità ma è giusto cullare il sogno post-season. Quello lunedì sera sarà una gara a spartiacque e con un successo si aprirrebbero scenari interessanti. Intanto, in casa Ternana, squalificato per un turno Coppola, che quindi non sarà del match con l'Avellino. Quotidiano del Sud. Solite prime pagine dedicate al mondo e quindi alle vicende internazionali. Esplode auto in pieno centro a Berlino. Morto il conducente è un uomo di origine turca di 43 anni. Si era pensato a terrorismo ma è criminalità locale. Anche il giornale rimanda le... sottolinea la vicenda di Regenis. Volte le indagini, l'Egitto collabora. Mentre per le primarie USA, Trump verso la nomination. Se dovesse vincere in Florida e Ohio sarebbe irraggiungibile. I repubblicani tendono la carta della nomina negoziata. intanto per i migranti. Scopie rimanda indietro i disperati di Domenia. Bruxelles-Cipro si mette di traverso all'accordo UE-Turchia. La Meloni candidata. Caos, Forza Italia. Si cerca una soluzione per ricucire lo strappo ma nel centrodestra regna l'incertezza. La leader di Fratelli d'Italia oggi annuncerà la corsa per Roma. Nessun passo indietro da Berlusconi. Sostegno a Bertolaso. Paura per le strade di Bruxelles. Blitz e le forze speciali nella periferia della città belga. Due terroristi in fuga, uno ucciso, quattro agenti feriti. La vittima non è Salah Abdeslam, il presunto attentatore in fuga dopo la strage di Parigi. Secondo l'Istat, il paese è tornato in deflazione. Calo dei prezzi del 0,3%, una gelata anche dal carrello della spesa. Una percentuale negativa così bassa su scala tendenziale non si vedeva da oltre un anno. Campari compre il Gran Barnier, Opa di 684 milioni di euro. Un premio del 60,4% per gli azionisti. Primari e Bassolino chiama Renzi. Potrei fare un ricorso nazionale, valente dove chiedere di rivotare in quei seggi. Napoli e Napoli, il premier se ne interessi di persona, dice Bassolino. Ne abbiamo già parlato appunto di questa situazione che è sicuramente incresciosa sia per il PD che per Napoli per le candidature. Un nuovo centrodestra. Dercole attacchi personalismi e rilancia azione nazionale. Sintonia con Viespoli dei Concili, Segargani, Gamba Corta, leader. Il dossier dell'urbanista alla procura. Autostazione, Petrignani, dubbi, successione delle aree. Il progettista e l'opera redattore di due PRG cittadini, scrive il procuratore Cantelmo e fa l'excursus sulle vicende della struttura. Un'altra delle cattedrale del deserto della nostra città. Il terminal bus è un fallimento. L'unica soluzione è l'autostazione. Inquinamento pronti a tornare in procura. Il comitato di Piazza Kennedy boccia il nuovo piano traffico ed il capolinea dei pullman. Operazione dei carabinieri. Pizzo alla scuola privata. Due fermi. Il manette Nicola Caldieri, 41 anni, Antonio Romano, 45. Il 23 febbraio scorso Caldieri avrebbe pestato a sangue il titolare dell'Istituto di Monteforte. E come abbiamo già visto, a Domicella tentano colpo alle poste messe in fuga grazie a una segnalazione all'intervento dei militari dell'arma. Montemiletto. Oggi l'esame autoptico su Salvatore Ricci. Morto dopo un intervento tra i medici indacati. E per il Moviplex accolta la sospettiva della Global Cinema. Rinvio al 2017. Per lo sport. All'assalto del treno playoff. Tessera recupera Angelo D'Angelo. Matavano ai box per febbre. Il match lunedì sera sarà uno spartiacco e stagionale per gli Irpini. Domani intanto test contro la Berretti. Bastian vola in Belgio e Biraschi in dubbio tra i nazionali. Bastian è andato dunque con la nazionale di Vincenzo Scifo, ex dell'Inter, che adesso è l'allenatore dell'Under 21. Mentre Biraschi potrebbe rientrare nelle attenzioni di Gigi di Biagio per l'Under 21 italiana. Sì di gas nulla ti è precluso. Mamoli del Sky Sport scommette su una possibile finale contro Milano. Alterare gli equilibri potrebbe essere rischioso. Nannali una garanzia. Da valutare ancora le condizioni fisiche di Marcus Green rimasto ai box anche nella vittoriosa trasferta di Brindisi. Passiamo al Corriere della Sera. Il quotidiano milanese apre con le vicende di Bruxelles. Di nuovo sotto assedio. Il blitz, la sparatoria e il sangue. La perquisizione di un appartamento era legata alle indagini per la strage di Parigi di novembre. Il bilancio di quattro poliziotti feriti e un sospetto terrorista ucciso. Altre due sarebbero fuggiti. Serve più lavoro di intelligence, dice il fondatore di Mediapart. Non è guerra. In Francia sta vincendo la politica e la paura. E probabilmente ha ragione perché le forze speciali di Bruxelles ritenevano di trovare un covo cosiddetto freddo, ossia vuoto, e invece è quindi solo di fare poco più di una perquisizione e invece l'hanno trovato fin troppo caldo. Gli errori, infatti lo sottolinea anche il quotidiano, anche il Corriere della Sera, gli errori della polizia che credeva di entrare in un covo disabitato. Politica, Meloni è il giorno della candidatura, Berlusconi fa un muro e Blinda Bertolaso. Atteso oggi l'annuncio, l'ex premier, una mamma non può fare il sindaco. Guidare Roma significa stare 14 ore al giorno in ufficio, non credo che possa essere la scelta giusta per la Meloni, dice addetto Berlusconi. Con voto unanime è stato espresso parere favoribile alla candidatura di Giorgio al sindaco da Fratelli d'Italia e dall'ufficio di presidenza. L'accelerazione della Lega riapre il capitolo primarie per scegliere la leadership. Sicuramente non esce rafforzato il PDL, il centro-destra. Roma andava lasciata a Berlusconi, possibile un contagio in altre città, così dice Roberto Maroni. Napoli, il candidato 5 Stelle, è di Monza. Per le primarie in America, la notte decisiva per la corsa di Trump, il magnate era dato in vantaggio sul rubio in Florida, ma in difficoltà in Ohio rispetto a Kasich. In Casa Democratica, il riprovava a consolidare il suo vantaggio sull'inseguitore Sanders. Il governo ombra dell'Andrangheta e le mani sui lavori del Museo dei Brunzi. Reggio Calabria, 17 arresti, il boss è un avvocato. Quindi ancora problemi con la commissione tra l'Andrangheta e anche i musei. Il fatto quotidiano. Il monogiornale, l'avvocato io avremmo detto di no. Cesare Romiti, stampa Repubblica, è un'operazione che si ritorcerà contro, è innaturale. La concorrenza serve a fare un prodotto migliore. Roma, Lady di marzo di Ibisi, candida pure la Meloni. Berlusconi, pensa a fare la mamma, ma fratellita, lei era dato il via libera e lei si è presa 24 ore di tempo e oggi darà l'annuncio. Roma, guerra per la casa. Tronca, salva i costruttori. Regalo alle imprese, spesi 1,5 miliardi pubblici, a volte mancano le fogne, ora salta il tetto ai prezzi. Le vicende quindi delle case romane, ancora in prima pagina. 100 mila no alle controriforme. Boom della petizione sul fatto. Il manifesto contro l'IDL Boschi, lanciato da giuristi intellettuali e artisti, in 24 ore ha più che raddoppiato le firme. sempre il giornale, sulle vicende internazionali, quegli angeli volontari nella trincea di Idomeni. Il campo profughi abbandonato alle istituzioni resiste con gli aiuti privati. La pizza di Ai Weiwei, l'artista cinese antiregime, via cibo caldo agli attivisti che hanno sconfinato. E intanto continuano le operazioni antiterrorismo in Belgio, come abbiamo visto, riprese da molti giornali, legate alle stragi di Parigi, scontro a fuoco con un morto e quattro agenti feriti, i giadisti giapponesi che resistono a Bruxelles. Uno dei due braccati riesce a fuggire, le ambiguità sul ruolo di Salah, il kamikaze mancato. Passiamo al sole 24 ore, il quotidiano economico nazionale, il principale quotidiano economico nazionale, parte con le semplificazioni, braccio di ferro con le regioni, sui poteri sostitutivi no dei governatori, Palazzo Grigide spinge la controproposta, mentre sulla flessibilità 4 miliardi alle infrastrutture. Bruxelles, programma con fronti strutturali, piano Juncker, corridori UE del Rio, acceleriamo la spesa in corso. Banche a gennaio, NPL in calo di 5 miliardi. Abile, sofferenze nette passano da 89 a 83,6 miliardi, il rapporto agli impieghi percentuali in flessione del 4,64%. Al minimo storico il tasso di interesse per i nuovi mutui, a febbraio il dato è risultato pari al 2,40%. A Bruxelles, caccia ai terroristi, anche il giornale, ovviamente a sole 24 ore, da ampio risalto, ucciso in sospetto in fuga durante un raid alla ricerca dei complici delle stragi di Parigi. Intanto Mosca, ritiro parziale, pronti a raid aeree, reazioni contrastanti alla decisione di Putin, ottimista all'inviato dell'ONU dei Mistura, più cauti Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Libia, spero nell'operatività del governo, Mattarella all'Unione Africana, responsabilità su immigrazione, Italia pronta a partnership. I tre obiettivi dell'Italia, secondo il Presidente, sono salvare vite umane, dare accoglienza a chi chiede asilo, trattare come umanità gli immigrati. Indubbiamente l'Italia ha fatto una parte molto matura e molto più matura di tanti altri paesi definiti civili sull'emergenza migranti, dimostrando davvero in questo di essere un grande paese e quindi peccato per le tante problematiche strutturali dello stivale. Nostra signora dei miracoli, dice la Gazzetta dello Sport, Juve dimezzata senza niente da perdere, il clima giusto per l'impresa. L'ultima mezz'ora dell'andata è da lì che si deve ripartire, a Monaco può nascere una squadra senza più limiti, col Bayern Pogba l'occasione per consacrarsi. Fenomeno. Dicevamo degli assenti perché, dice appunto la Gazzetta, Iai Allegri, anche Dibbala finisce ai box, però Mandzukic dà speranze. Paolo a casa con Chiellino e Marchisio, il croato prova oggi, potrebbe giocare. Per il basket, il grande strappo, Reggio, Sassari e Trento in Eurocup. Ieri l'ufficializzazione per gli emiliani, giornata arriveranno gli altri due sì, coppe sicure per tre anni. La vicenda delle sassate al bus di Avellino, rientrando da Brindisi, vetro rotto, tutti illesi. Mentre ieri c'era l'andata dei quarti di Eurocup con il derby italiano Trento-Milano e ha vinto Trento di dieci punti. Una serata da Poeta, dice il titolo della Rosa, Trento più dieci su Milano e il sogno non si ferma. Buscaglia, abbiamo giocato con intensità e precisione. Repesa, siamo in emergenza, un miracolo aver perso così. 83-73 il punteggio finale. Siamo in emergenza, detto da Repesa, davvero fa sorridere, visto che Milano ha di fatto due squadre, almeno per l'Italia. Può schierare un tal numero di uomini, figuriamoci in Eurocup, che davvero risultano essere quasi imbarazzanti. Era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. A me non resta che augurarvi una buona giornata sulle frequenze di Prima TV con i nostri programmi.